Hi guys, sto registrando dall'esterno perché non mi piace registrare in casa, ci sono solo 6 gradi qua in Valdossola è 4 giorni che piove, oggi è lunedì, il giorno di Pasquetta, sto registrando la mattina, il video uscirà questa sera e guardate, 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 fatture, fatture, fatture di quello che sto spendendo per fare la manutenzione a me stesso ma prima di entrare nel vivo del video con i costi di tutte le visite e le terapie che sto facendo voglio fare un'introduzione magari per i nuovi, chi sono? Il mio nome è Fabrizio, sono originario di Domodossola ma negli ultimi anni vivo in giro per il mondo, ho fatto una parentesi negli Stati Uniti dove ho lavorato per quasi 10 anni a ottobre del 2002 mi sono licenziato e avendo importato dall'Italia una macchina una Fiat Panda 4x4 1993, una Panda Trekking sono partito dal nord degli Stati Uniti, dal Wisconsin, Madison, da dove vivevo per dirigermi, guidarmi fino all'estremo sud, dall'Argentina in questo momento la macchina si trova al confine tra Colombia ed Ecuador io sono rientrato in Italia per un breve periodo, non perché avevo questi problemi fisici ma perché sulle Ande peruviane, soprattutto, è il periodo delle piogge ho voluto aspettare e mettere un attimo in pausa il viaggio per essere sicuro che quando passerò su quelle strade ci sarà il tempo bello visto che probabilmente lo farò solo una volta nella vita col pandino volevo essere sicuro visto che comunque avevo quasi due mesi di attesa ho deciso di andare dal dottore era probabilmente, adesso non me lo ricordo quando però un paio d'anni che mi portavo appresso due problemi fisici di conseguenza sono andato dai dottori specialisti essendo io residente negli Stati Uniti ed è scritto all'Aegra l'associazione italiana residenti all'estero non mi spettua la sanità pubblica per essere più preciso, se avessi comunicato che sarei stato diverso tempo in Italia mi sarebbe aspettata la sanità pubblica ma voi sapete meglio di me i tempi biblici che ci vuole per essere curati in Italia di conseguenza non avendo tanto tempo perché la bella stagione sulle Ande sta arrivando ho deciso di andare privatamente che problemi avevo? allora iniziamo dal più semplice che c'è che l'ho già risolto avevo un'infezione al cuoio capelluto all'inizio pensavo che era un problema, uno sfogo dato dal cappellino solitamente avevo sempre il cappellino il sudore, lo sporco ma avendo eliminato il cappellino per 5-6 mesi questo non ha migliorato nulla allora ho pensato che era la macchinetta che uso per tagliarmi i capelli ho comprato la macchinetta nuova dal piattino, quello che si appoggia sul cranio di ferro lo sono andato in plastica ma anche questo non ha fatto cambiare nulla di conseguenza sono andato dal dermatologo che in 3 minuti mi ha fatto la diagnosi avevo questa infezione batterica fulicolite al cuoio capelluto se non ricordo male non sono molto bravo sui termini medici mi ha dato una crema antibiotica che sto ancora mettendo due volte al giorno però devo dire che ormai sono passati già due settimane perché sono andato sabato oggi è lunedì di pasquetta quindi sono passati due settimane e due giorni non ho più questo sfogo devo continuare però con l'antibiotico fino al 6 aprile 20 giorni di cura qui ho speso andiamo subito alle spese poi facciamo il conto totale ho speso per la visita specialista specialistica ho speso 105 euro 105 euro con fattura aspetta che guardiamo qual è 105 105 con marca da bollo tutta regolare 105 euro 103 la visita più 2 di marca da bollo fortunatamente ho scoperto non lo sapevo che sulle prestazioni mediche non c'è l'IVA almeno questo 22% l'abbiamo risparmiato che sul conto totale comunque sarebbe stata una cifra per me non così indifferente una volta lasciato il dottore sono andato in farmacia a comprare questa crema antibiotica che è un po' come un sapone per le mani sembra più che una crema ed è costata 21 dollari un botticino piccolino e ne comprerò un altro da portarmi dietro in viaggio perché mi ha detto se dovesse tornarmi potrò fare una terapia locale quindi solo dove si fa lo sfogo perché in questo caso era talmente diffusa che io ho fatto questa terapia su tutta la testa su tutto il mio cranio bello tutto incremato questo è stato diciamo la spesa meno rilevante me le sono scritte tutte qua ovviamente perché non me le ricordo che è stato dicevo dermatologo 105 euro e l'antibiotico la crema 21 euro quindi con 126 euro mi sono curato la testa ovviamente l'esterno non quello che c'è dentro quella è è irriparabile dopodiché siamo andati dall'ortopedico ho un problema alla spalla sinistra che mi porto anche qua da due anni un problema strano perché ho dolore ho fastidio solo a riposo quindi quando sono seduto quando sono sdraiato quando dormo se io faccio attività fisica non ho nessun problema nessun dolore 135 euro il costo della visita specialistica dell'ortopedico 135 euro che mi ha mandato a fare una risonanza magnetica risonanza magnetica pagata 167 euro dove si è rivelato che ho un problema al tendine superiore ma a me fa male sotto perché è un male riflesso di conseguenza una volta che avevo la mia risonanza magnetica sono ritornato anzi gentilissimo non mi ha fatto pagare un'altra visita gli ho mandato il risultato in whatsapp e lui mi ha mandato praticamente la terapia che dovevo fare la terapia che comprendeva fisioterapia e onde d'urto qui sono andato in un'altra clinica perché dove c'era l'ortopedico non facevano questo servizio e ho prenotato tre onde d'urto ne ho già fatte due me ne manca una al prezzo di 60 euro l'una quindi tre terapie di onda d'urto totale 180 euro in più devo fare 10 sedute di fisioterapia dove mi fanno fare dei movimenti mi fanno delle manipolazioni mi fanno una terapia magnetica non ho mica capito bene ne ho già fatte due ne devo fare altre otto e qui ogni seduta costa 40 euro quindi ho 10 sedute per 40 euro sono 400 euro in più ovviamente non è finito mi hanno dato degli esercizi da fare a casa ho dovuto comprare gli elastici per fare esercizi sulla spalla io li faccio anche sulla destra per comunque prevenire magari un problema futuro sulla destra mi serve per tonificare e rinforzare la spalla sinistra che è molto più debole rispetto alla spalla destra detta dal fisioterapista e anche dall'ortopedico in base degli esercizi che mi hanno fatto fare qui ho dovuto spendere 12 euro per un gran totale ragazzi e fortunatamente tutti questi prezzi sono senza IVA tranne gli elastici che però 12 euro compresa IVA e la spesa minore ho speso la bellezza di 660 euro io non so se è poco e se è tanto posso dire che da tutte le persone che mi sono rivolto sono state super professionali tempi proprio ristretti è andato la sera esame fatto la mattina per la prenotazione non c'è tempi di attesa probabilmente è un mondo parallelo alla sanità pubblica italiana una cosa che si avvicina più a quella americana con dei prezzi molto più contenuti probabilmente se avessi fatto queste terapie negli Stati Uniti mi sarebbe costato molto molto di più perché probabilmente con 100 euro che possiamo trasformare in 100 dollari il dottore non ti guarda una risonanza magnetica non voglio neanche pensare quanto possa costare anzi magari faccio così faccio una ricerca online e vi metto qua quanto costa una risonanza magnetica negli Stati Uniti se la trovo e non vi prometto niente però sicuramente molto più di 167 euro so che in Italia va da questo prezzo qua fino ai 300 euro dipende molto dalla macchina che usano per farti questa risonanza magnetica questo l'ho scoperto dopo perché me l'ha detto il fisioterapista che quella che ho fatto diciamo non è il top non è la migliore ma per quello che c'ho io andava benissimo ci sono altre macchine molto più costose che hanno una definizione 100 volte migliore è un po' come usare un telefono piuttosto che un action cam piuttosto che una full frame camera per fare i video tutto cambia anche in medicina è così più paghi più hai qualità nei risultati poi nei dottori questo non è sempre detto perché quello poi va secondo me anche un po' a fortuna come in tutto come in tutto questo era un quadro generale di quanto ho speso di quanto costa la sanità privata in Italia non so se voi avete avuto altre opportunità di usarla lasciatemi nei commenti quanto vi è costata e cosa ne pensate di questa cosa che sta crescendo anche in Italia perché sono rimasto sorpreso dalle cliniche mediche che ci sono qua in Val d'Ossola attorno a Dom d'Ossola che è una realtà molto piccola stanno crescendo come i funghi tantissime per quello che è la popolazione di Dom d'Ossola e delle valli ci sono veramente molte opportunità per la sanità privata questo non so se è un bene o se è un male scrivetelo voi nei commenti io non mi esprimo essendo poi residente negli Stati Uniti io sono abituato alla medicina privata anche se fortunatamente non l'ho mai usata negli Stati Uniti noi ci vediamo al prossimo video che ancora non so di che cosa parlerò ho ancora probabilmente 3 marra 4 settimane a rimanere in Italia perché devo finire questa cosa qua col fisioterapista ad oggi devo dire la verità miglioramenti non ce ne sono stati vediamo quello che succederà nei prossimi giorni ci sarà veramente un bel video probabilmente nel senso sarà un bel weekend non so se riuscirà a uscire scusate a uscire un bel video noi ci proviamo ci mettiamo sempre il massimo dell'impegno l'ultima cosa l'ultima cosa oggi è Pasquetta ragazzi se non siete iscritti al mio secondo canale mancano 50 persone per arrivare a 1000 fatemi sto regalo di Pasqua e noi ci vediamo al prossimo video da Domodossola è tutto per questo video passo e chiudo ciao 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 Grazie.